grazie non vi dimenticheremo mai qual era il nome di quei tizi me lo sono già dimenticata ho deciso li chiamerò il tirannosauro team i vagoni possono spostarsi dove quando vogliono io lo adoro e selvaggio imprevedibile cos'è questo posto sembra uno studio qui studiano come cumulare oggetti ehi esci da lì chi io no no non parlavi con me no ciao cosa forma di me sei mia mamma e se si dove sei stata per tutto questo tempo maleducata ma guarda ecco la ragazza con il nome del mio fiore preferito sta calmo cane è questa la gatta di cui mi hai parlato sfortunatamente sì lei è fantastica l'ultima volta che l'abbiamo vista ha provato a rapirti rapirlo je ne saura jamais ricordo che c'era un patto e tu non l'hai rispettato ti ho lasciata in pace e tu mi hai abbandonata insieme a centinaia e centinaia di implacabili randall ma è acqua passata bene cosa ci fai qui io siete voi che siete piombati qui nella mia umile dimora bel posto ma questa mamma è troppo silenziosa non toccarlo chiedo scusa questi oggetti sono davvero importanti per me d'accordo ma per me sono noioso e polveroso quindi ce ne andremo addio ex rapitrice mi manchi già e questa cosa mi confonde molto aspetta non ti chiedi perché il destino ci ha fatto rincontrare no non mi interessa così mi ferisci gattina ma ti capisco au revoir accidenti ti prego aiutami a riprendere quegli oggetti per terra lo farei da sola ma lo sai non ti capisco non ti capisco